non mi scrive più nessuno babbo non mi cade in depressione dammi del tu hai mai provato a regalare due ferrari che l'urso sfrenato e otto cucine scavolini viene tutto più buono e 300 enduro vivi guarda che numeri ma dove le trovo regala me le gatti demotivato miscredente come le gatti è più dolce che mai